Sì, un buongiorno da Riace, una cittadina sull'Ionio Calabrese, nota le cronache come simbolo dell'accoglienza. E proprio qui si stanno svolgendo i mondiali antirazzisti e siamo in compagnia di Claudia, di Manuela Cleisset, del WISP, organizzatore di questo evento. Il vostro slogan è, la differenza ci unisce, anche attraverso il forte collante dello sport? Assolutamente sì, la nostra esperienza come WISP è proprio questa, attraverso anche una manifestazione nazionale così importante, che tra l'altro ha oltre 20 anni di storia, portiamo un messaggio di inclusione contro ogni forma di razzismo e appunto anche un messaggio di coesione. Crediamo di essere in un posto molto importante, un esempio, un modello e questa esperienza che appunto stiamo portando anche in giro per l'Italia, per la prima volta i mondiali arrivano a Riace, quindi crediamo che sia un messaggio molto importante. Sono più di 100 squadre? Esattamente, più di 100 squadre che stanno già giocando adesso appunto a calcio e poi c'è il basket, il pallavolo e questo è. E da qui da Riace è tutto.